Al centro l'importanza di lettura e scrittura riconoscendo il valore e la misura della crescita dello studente. Questo è il motore del premio letterario Antonio Piccariello dedicato alla fiaba e organizzato dalla sezione Hauser di Larino in collaborazione con l'istituto omnicomprensivo. Sono stati coinvolti gli alunni della scuola primaria e i lavori sono stati presentati dalle classi terze e quarte e proprio l'attuale quarta A della scuola Rosano si è giudicata il premio con la fiaba Giaffa la Giraffa. Certamente tutte le fiabe hanno risposto ai criteri stabiliti dalla Commissione ma uno in particolare ci ha colpito per il messaggio legato all'inclusione, alla solidarietà, all'amicizia, all'accoglienza in una rappresentazione grafica colorata e soprattutto perché è stato l'unico testo scritto a mano che noi abbiamo definito ma non scritto autografo quindi per la preziosità della scrittura del testo. Gli alunni sono stati veramente entusiasti di questa iniziativa e hanno avuto modo di dare sfogo a quella che è la loro fantasia, la loro creatività perché anche se oggi si dà molta importanza al social, i bambini hanno voglia di parlare, di raccontarsi e di mostrare tutto quello che hanno dentro, una fantasia e una creatività incredibili. Il premio letterario intitolato da Antonio Piccariello, prestigioso critico larinese che ha lasciato un grande vuoto, quest'anno ha coinvolto gli alunni della scuola primaria degli istituti omini comprensivo di Larino con la piena consapevolezza che per loro creare usando la propria immaginazione e gli strumenti che la fantasia offre sia gratificante, fissi le basi per altri lavori e implementi le competenze. Un impegno significativo perché Lauser ha voluto con questa iniziativa omaggiare e ricordare il professore Antonio Piccariello che è stato un amante di Larino della sua storia, un intellettuale, un poeta, un sognatore e quindi come organizzazione, come associazione abbiamo voluto ricordarlo con questa prima edizione del premio letterario dedicato proprio ad Antonio Piccariello. Antonio se fosse stato qui con noi sarebbe stato felicissimo di questa manifestazione sia perché lui adorava le fiabbe e vedere tutti quei bambini penso che l'avrebbe emozionato tantissimo.